è un piacere potrei presentare questo nuovo brevetto internazionale della 4m il tensiometa questo strumento, un microcomputer, permette di rilevare in una zona di un elemento in calcestruzzo quello che è il suo stato tensionale l'idea è quella di fare questa operazione durante l'esecuzione di una carota il predio della carota che poi viene portato in laboratorio per eseguire la prova di rottura, la prova di schiacciamento ci permetterà poi di avere il risultato ultimo di resistenza in materiale ma questo risultato dovrebbe ed è bene che sia confrontato con lo stato tensionale di quella carota prima di essere prelevata ed è questo che si prefigge questo strumento come funziona? vengono incollati degli stessimetri sulla superficie del calcestruzzo nella direzione di misura dove si vogliono rilevare gli stati tensionali una volta applicati gli strumenti questi vengono collegati con il microcomputer che provvederà ad acquisire i dati della deformazione relativa di quell'elemento che verrà estratto infatti mentre noi eseguiremo la carota carotaggio e quindi tagliando tutto intorno all'elemento e misura noi rilasciamo tutto lo stato tensionale in quanto liberiamo quell'elemento dalla compressione o dalla trazione che era preesistente questa misura quindi determina una deformazione opposta a quella che era prima insita nel materiale stesso qui vediamo l'applicazione del microcomputer il tensiometer e l'applicazione della carotatrice l'operatore adesso imposta lo scansionamento dell'apparecchiatura di acquisizione ed attiva il carotaggio durante il carotaggio come si diceva man mano che si penetra dentro il materiale questa parte di materiale che è appunto la carota si rilassa cioè perde lo stato di tensione che tutto il materiale intorno gli provocava una volta estratta la carota e qui vedete il momento esatto in cui questo avviene viene poi collegato lo strumento che ha rilevato i dati col computer e da questi vengono poi letti tutti i valori che rappresentano appunto la deformazione relativa di questo elemento qui vediamo l'elaborazione rapida del risultato il risultato finale che ci porta a conoscere lo stato tensionale pari a 150 microepsilon che ci porta a conoscere che ci porta a conoscere